uscirà tipo un mega boss e parola e io in risposta parola e e poi ci sarà una un fucotto allucinante verso la sopra ok ecco vedete io lo sapevo lo sapevo giuardo non soccato oddio 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 fa fa che non mi ci dà poi che non mi dà mai non mi dà mai non mi dà mai non mi dà ok ok riprenditi giugno riprenditi salito oh santo dio da dove cazzo è uscito da berzer che quel tipo dai non puoi fare una cosa del genere contro attraverso 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 schifo no maledetto mouse schifoso o è so che PERCHEEE? No, no, non è possibile, non è... Cioè, no dai, non è umanamente possibile questo gioco! Il palestiere lì mi sta rompendo i coglioni, non... No, 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 proprio che ti dico... No, non ce la puoi fare, ti romperemo il culo! PERCHEEE? Che vi ho fatto di male? Che diavolo? Che malattia mentale avete, maledetti schifosi? Su, vieni qui, vieni qui, maledetto idiota, maledetto... NO! Oh! Oh, 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 cazzo, che do... No, 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 dannazione, ah! No, direi che ancora non sono pronto per il Cavaliere Nero Perché come mi ha ricordato qualcuno Al Cavaliere Nero non gli devi dare un perca Mi ha detto questa cosa dell'elettricità Amico mio, ti amo Non ci credo Ce l'ho fatta Ok, perché ne ho presa una in più, non lo so Ho ucciso così con tre colpi il demone A chi mi aveva detto che dovevo usare la resina dorata per uccidere il demone toro, guarda Ti bacio, però guarda, vengo lì e fatti un Salve Davvero Ok E' perché mi guardano tutti strano Ok E' terribile questa cosa Rimani lì a ridere da solo come un coglione No, non posso manire qui Non No, donnazione Sto odiando questo gioco a dei livelli indescrivibili E quando vi dico che lo sto odiando a dei livelli indescrivibili Dico proprio che lo sto odiando a dei livelli in cui Dio E' caduto da un pezzo Sto a dei livelli superiori proprio Dentro la mia testa ovviamente non ve li dico perché tipo sarebbe da censura anche per un bestemmiatore Pazzo Prendi una pozione, sbrigati Devo fare tipo meditazione zen quando gioco a questo gioco Tipo Ok Ok Che No No Si No, no, che cozzo, maledizione Ma chi è che mi spara queste cose Oh Liscio, merda No Cazzo, ho finito le estuzze No, ho finito le dannatissime Pia le estuzze Ahhhhh Uno stucuto Dio Perché Per Dammi una Ragione Del Perché 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 Sei il suo punto debole Ma questo come cazzo fa Ah ok C'è Se mi nascondo qui dietro non mi ciappa C'è Poi magari se Ok Da dove Oh Oh Porca Put Su Saltella E Che Ok Ok Tu Tu Mi 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 Tu 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 Tis Tu ok sogno donazione oltre ok contro il tavolino non ho niente quindi tu puoi rimanere anche vivo per il resto di voi crepate tutti ok mi dispiace tavolino ok tu sei fortunato a essere rimasta viva a sedia quindi di alle altre quello che hai visto e sono un coglione ho sprecato una pozione oh cazzo ho fatto la rima ma è bellissimo ok andiamo qui sopra e vediamo due come due no 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 qui non ci capiamo proprio qui state proprio fusi state fusi come le verde ma no no che cazzo pure pure ok allora ditelo lo facciamo apposta oh porca e beh certo ecco in due è facile eh sì eh dai ok l'arte dell'accensione te la puoi mettere in culo per il resto cioè come come faccio dai sono due fottutissimi gomme eh dai basta anche tu ma che cazzo basta con sto fiume di merda vieni qui no 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 è è impossibile allora con calma e per piacere ok non ce la posso fare non ce la posso fare non mi sia dimenticato di voi no è ovvio che non mi sono dimenticato di voi stifi di esseri e mondi su 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 forza che siete più lenti di cosa non lo so ok penso di un babbuino morto ma poi ci sarebbe oh no 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 non posso crepare con questi no 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 non lo accetto non lo accetto non no 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 sinceramente